2024 Spring Edition è stata una bellissima esperienza, siamo tornati a fare l'edizione in primavera, ne siamo tutti felici, c'è anche un bel sole oggi, è un solo giorno ma è tutto italiano e ci piace proprio per questo perché è un giorno che appartiene alla comunità degli sviluppatori delfi italiani e Tidevcon in una sola parola è apprendere. Questa edizione le cose mi sono piaciute di più sono state l'italianità, gli speech davvero innovativi e il senso di community. La community italiana di Delphi sta crescendo, ci sono dei volti storici con i capelli bianchi ma stiamo cominciando a vedere anche dei magnifici ragazzi che si avvicinano al mondo Delphi e che stanno davvero facendoci vedere che il futuro saranno bravi. Quest'anno uno speech davvero interessante è stato, una grande novità sono stati gli algoritmi genetici che in Delphi si possono fare ma soprattutto abbiamo capito bene che cosa sono gli algoritmi genetici. Un saluto a tutti i partecipanti di Tidevcon, vi aspettiamo per la versione invernale a fine ottobre, siamo sempre più forti e rimanete con noi.